Quanto è bello osservare il cielo e scoprire costellazioni, pianeti, stelle e soprattutto i loro moti. Non tutti sanno che qui nella città di La Spezia c'è un planetario, proprio qui al terzo piano dell'Istituto Nautico, che permette di osservare il cielo la volta celeste anche quando il tempo non lo permette. Grazie alla Presidenza dell'Istituto Nautico e al Gruppo Astronomia Digitale, il 19 gennaio alle ore 15.30 il planetario sarà aperto al pubblico. Andiamo a vedere. Il planetario purtroppo non ha un numero illimitato di posti, quindi sarà necessario per farsi una pianificazione che fate una mail alla casella gadchiocciolaparcodellestelle.com per prenotare la vostra adesione. Entro la giornata di mercoledì 18. Vi sarà data risposta con la conferma entro il giorno dopo e se non si dovesse riuscire a soddisfare tutte le richieste verrete invitati per un altro appuntamento. Seguiteci comunque sul nostro sito www.parcodellestelle.com dove ci sono tutte le nostre attività. In futuro prevediamo anche a cavallo fra gennaio e febbraio di fare delle serate per vedere la cometa di Neandertal qui alla Spezia. Seguiteci quindi sul nostro sito per rimanere sempre aggiornati su tutte le nostre attività.